Ok, per eseguire questo esercizio vi servirà una benda elastica. Fissate la benda elastica all'altezza delle vostre spalle. Impugnate con entrambe le mani tutte e due le parti dell'elastico. Da qui, ruotando i polsi verso il basso, portate i gomiti all'altezza delle vostre spalle e ritornate in posizione di partenza.